Dal Vangelo secondo Giovanni Una buona domenica a tutti. L'episodio della guarigione del circonato che ci è raccontato soltanto dall'Evangelista Giovanni è collocato nel contesto della festa delle capanne che era la più solenne delle feste, era addirittura chiamata la festa per eccellenza. Era celebrata in autunno e segnava la conclusione della vendemmia e della stagione agricola. Si comprende quindi la gioia di tutto un popolo che raccoglieva il frutto delle fatiche di un anno. Durava sette giorni e il centro di questa festa era il Tempio di Erode che vedete sullo sfondo e notate anche la strada che dal Tempio scendeva verso la città bassa dove si trovava la piscina di Siloe. Era una piscina molto grande, ben 4000 metri quadrati di estensione e l'acqua di questa piscina veniva dalla sorgente del Gihon che vi viene indicata e poi quest'acqua dalla sorgente veniva incanalata fino alla piscina attraverso un tunnel che era stato scavato nella roccia al tempo del re Zechia, siamo nel 702 avanti Cristo, quindi è stata un'opera straordinaria scavare dentro la roccia questo tunnel che è lungo ben 530 metri, hanno impiegato due anni a scavarlo e l'acqua quindi dalla sorgente del Gihon era come se fosse stata inviata alla piscina di Siloe e da qui che viene il nome di Siloe, nome della piscina perché viene dal verbo shalach, inviare ed è proprio su questo verbo che l'Evangelista Giovanni ci vorrà fare riflettere, acqua inviata e lui dirà acqua dell'inviato, inviato dal cielo naturalmente che è Cristo, ma questo lo vediamo dopo. Che cosa caratterizzava questa festa? Due elementi, il primo la liturgia dell'acqua. Ogni mattino il sommo sacerdote scendeva dalla strada che vi ho indicato con una brocca d'oro e andava ad attingere l'acqua alla piscina di Siloe. L'acqua di Siloe era considerata pura perché veniva dalla sorgente e una moltitudine in festa accompagnava il sommo sacerdote fra i canti di gioia, i leviti che suonavano, le trombe, i tamburelli, i sistri, le cetre e dopo aver attinto l'acqua il sommo sacerdote con tutta la popolazione tornava nel tempio e versava quest'acqua sopra l'altare. Qual era il significato di questo rito? Era un'invocazione al Signore perché inviasse la pioggia autunnale che è molto importante per le semine e nel settimo giorno questo rito era ancora più solenne perché prima di versare l'acqua il sommo sacerdote girava intorno all'altare per ben sette volte. Perché ci interessa questo rito dell'acqua? Perché Gesù ha partecipato a questa festa e che cosa ha fatto Gesù? Proprio in quel contesto ha alzato la voce e si è presentato come lui la sorgente d'acqua viva, ha gridato a gran voce chi ha sete venga a me e beva, non avrà più sete aveva detto alla Samaritana. quest'acqua che voi andate ad attingere è un'acqua materiale ma c'è un'altra acqua che dona realmente la vita, è lo spirito che lui ha portato dal cielo, la vita divina e lui dice chi ha sete tutte le altre acque non saziano mai perché sono acque che noi andiamo ad attingere a dei pozzi che poi seccano tutti questi pozzi materiali dove noi andiamo ad attingere la realizzazione della nostra vita a un certo punto seccano. La vera sorgente di acqua viva dice Gesù sono io proprio nel contesto di questo rito dell'acqua, della festa delle capane. E poi c'era un secondo elemento che è molto importante da tenere presente per capire poi il messaggio del brano evangelico. Era la festa della luce. La città di Gerusalemme era tutta illuminata a giorno con fiaccole, quattro di queste fiaccole erano enormi e si trovavano nell'atrio delle donne, gli uomini danzavano nella spianata del tempio con fiaccole accese e c'era poi la visita agli ammalati a chi era in lutto perché bisognava portare anche a loro la gioia di questa festa. È ancora in questo contesto della festa delle capanne che è festa anche della luce che Gesù alza la voce e si presenta come la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre ma alla luce della vita. Io sono la luce del mondo. È in questo contesto che va capito il racconto della guarigione del cieco nato. Gesù ha curato tanti ciechi ma il modo come l'evangelista racconta la guarigione di questo cieco diventa una parabola, una parabola del passaggio dalla tenebra alla luce che ogni uomo è chiamato a fare. Credo che non ci sia verbo come vedere che è impiegato in senso metaforico. Noi lo adoperiamo continuamente quando diciamo apri gli occhi, ti stanno imbrogliando, stai comprando una casa che è una catapecchia, apri gli occhi, non vedi che ti imbroglia. Oppure una persona pessimista diciamo vede tutto nero, un amaro, vede solo i soldi oppure uno vede lontano. Ecco questo verbo vedere impiegato metaforicamente va tenuto ben presente per comprendere il cammino che questo cieco che Gesù incontra nella festa delle capanne e viene condotto alla luce rappresenta proprio questo passaggio dalla tenebra verso la luce che è quella di Cristo. La guarigione di questo cieco quindi che cosa rappresenta? Vediamo di chiarirlo prima di cominciare ad ascoltare il racconto. È l'immagine, la cecità della condizione in cui noi nasciamo. La nostra natura biologica quando compare, compare nella tenebra, ci inclina non verso l'alto ma verso il basso, ci porta a lasciarci guidare dalle nostre passioni, le nostre brame, a ripiegarci sui beni di questo mondo, convinti che così realizziamo pienamente la nostra esistenza. Brancoliamo nell'oscurità, non viviamo da uomini se noi seguiamo quelle che sono le nostre pulsioni biologiche, quelle nelle quali noi nasciamo. Ecco la necessità che nel cammino della nostra vita ci vengano aperti gli occhi per vedere chi siamo, cosa ci stiamo a fare in questo mondo, dove siamo diretti. Se non ci vengono aperti gli occhi noi ci limiteremo come tutte quelle creature dalle quali noi deriviamo, accontentandoci di quello che la natura ci offre. Non alziamo lo sguardo verso il destino che ci caratterizza come uomini. Ecco la necessità di venire illuminati per comprendere qual è il nostro destino. A volte si sente dire che la fede è cieca. Schopenhauer diceva o si pensa o si crede. No, non si può credere senza aver riflettuto, pensato, trovato la ragionevolezza delle scelte. Poi quando la nostra mente è sazia, allora siamo chiamati a fare una scelta. Possiamo giocarci la vita su una proposta che ci viene fatta, ma questa proposta non può mai rinnegare la ragionevolezza, altrimenti non è fede, è irrazionalità, creduloneria, superstizione. Ce n'è ancora tanta purtroppo. La fede cristiana è un vedere, è un aprire gli occhi per vedere lontano, per non confondere i fantasmi con la realtà, l'effimero su ciò che realmente vale. E Gesù è venuto proprio per portare questa luce. Già all'inizio, quando Zaccaria pronuncia quel benedetto il Signore Dio di Israele, dice, verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra di morte. E l'evangelista Giovanni all'inizio del suo Vangelo dice, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ecco Gesù è presentato proprio come la luce che viene a rischiarare le tenebre del mondo. Noi nasciamo ciechi. Ecco il significato metaforico che ha questa guarigione come viene raccontata dall'evangelista Giovanni. Sentiamo come inizia questo racconto. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Rispose Gesù. Né lui ha peccato, né i suoi genitori. Ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Egli disse, va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Gesù si trova nelle vicinanze del Tempio e vede un uomo cieco dalla nascita. Non ci viene detto il nome, è un uomo. Rappresenta l'umanità che nasce cieca. E non è il cieco che va a chiedere la guarigione. È Gesù che prende l'iniziativa. Il cieco non ha mai fatto l'esperienza della luce e non immagina nemmeno che possa esistere un modo di vivere diverso. Quando una mamma a volte si lamenta come mai mio figlio si interessa soltanto della serata che deve passare con gli amici al sabato sera e non pensa quanto sia bello preparare la liturgia della domenica, prepararsi ad ascoltare il Vangelo. Perché non ha aperto gli occhi? Non immagina che ci sia un modo di vivere diverso da quello che fanno tutti. Chi non ci vede si adatta all'andazzo. Ciò che fanno anche gli altri diventiamo un po' dei pecoroni. Le pecore non ci vedono e allora vanno le une dietro alle altre. Il pecorismo è necessario per essere coscienti delle scelte che si fanno nella vita che qualcuno ci apra gli occhi per sapere dove stiamo andando e qual è il nostro destino. E la domanda che i discepoli fanno chi ha peccato perché è nato cieco? Gesù non vuole sentire parlare di colpa perché uno nasce cieco. In quel tempo era normale pensare che se uno aveva qualche malattia era stato castigato dal Signore. E qualcuno pensa ancora così. Gesù non vuole sentire parlare di queste cose. La disgrazia è un evento, non è mai un castigo di Dio, nulla a che vedere con Dio il dolore. Ma adesso noi cerchiamo di capire il significato metaforico che dà l'Evangelista Giovanni a questa cecità. Non è colpa dell'uomo se nasce cieco, non è colpa né sua né dei genitori. È la condizione nella quale noi nasciamo. Non è un peccato nascere in questa realtà. È la condizione dell'uomo in quanto uomo e quindi molto improprio. Parlare di peccato originale non c'è alcuna colpa nel nascere così. Gesù non vuole sentire parlare di peccato. Noi nasciamo in questa condizione di cecità bisognosi che qualcuno, cioè Dio, ci apra gli occhi. Ed ecco Gesù che dice finché sono nel mondo io sono la luce del mondo. E adesso il fatto, detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, lo spalmò questo suo fango e richiamo suo fango sugli occhi del cieco. Beh, il gesto di Gesù ci imbarazza anche un pochettino. Ma che cosa significa? Anzitutto la saliva. In quel tempo la saliva era il concentrato dell'alito, del soffio. E che cosa sta facendo Gesù? Noi abbiamo già trovato nella Bibbia questo impastare con la polvere della terra, lo ha fatto Dio. Quando ha creato l'uomo il suo soffio che ha donato vita a quell'uomo che è stato impastato col fango della terra. A questo punto il significato del gesto di Gesù diventa molto chiaro. Siamo di fronte alla ripetizione del gesto creatore di Dio, cioè Gesù si presenta come nella sua realtà di uomo impastato anche lui come noi del fango della terra, perché anche Gesù era composto un po' di idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, un po' di quelle robe lì, esattamente come noi, ma con lo spirito che è la vita divina che lui ha portato nel mondo. Che cosa fa Gesù adesso? Prende il suo fango, cioè la sua persona, la sua incarnazione di uomo autentico impastato dalla polvere della terra e dello spirito e lo pone davanti agli occhi del cieco. Per aprirgli gli occhi il significato metaforico è chiarissimo. L'uomo se non ha davanti i propri occhi l'immagine dell'uomo autentico riuscito, che è quello impastato dalla realtà materiale, ma con la pienezza dello spirito che ha la vita divina, non vede, non è un uomo autentico. Ecco ciò che apre gli occhi al cieco sarà questo fango che Gesù ha posto davanti ai suoi occhi e che noi dobbiamo tenere presente se vogliamo camminare nella nostra vita con gli occhi aperti. È l'uomo nuovo e dice Gesù a questo cieco va e lavati alla piscina di Siloe e richiama l'evangelista che Shiloach significa inviato, in realtà Shiloach non significa inviato, inviato si dice Shaluach, però quello che interessa l'evangelista è l'assonanza. Bisogna andare all'acqua dell'inviato se vogliamo aprire gli occhi e quindi viene richiesta al cieco una scelta, deve muoversi per andare all'acqua che gli apre poi gli occhi. È il simbolo questo andare a prendere l'acqua dell'inviato, l'accoglienza del dono dello spirito. È necessario quindi fare un'opzione per quest'acqua. A questo punto Gesù esce di scena mentre il cieco nato scende e va alla piscina di Siloe. È durante questa assenza adesso che colui che ha aperto gli occhi comincia a muoversi e deve confrontarsi con chi gli occhi non li ha ancora aperti. Ascoltiamo il primo dialogo di colui che era cieco con coloro che lo avevano conosciuto prima. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano è lui, altri dicevano no ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva sono io. Allora gli domandarono in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero dov'è costui? Rispose non lo so. L'uomo che è stato illuminato da Gesù non viene più riconosciuto. I vicini che sono vissuti accanto a lui per anni si chiedono ma è lui o non è lui? La condizione precedente di quest'uomo era di essere seduto e di chiedere l'elemosina, cioè era immobile, dipendente, andava dove lo portavano gli altri, adesso non più, adesso è lui che fa le scelte, adesso è libero, sa dove vuole andare, sa quello che vuole nella vita. È un uomo nuovo. Se prima era mosso dalle passioni sregolate, adesso è mosso dallo spirito e quindi è completamente diverso. Se prima offendeva, era scortese, arrogante, pensava solo ai soldi, faceva il furbo, adesso è diventato tenero, servizievole, attento agli altri, onesto. La gente allora non può che chiedere a costui come mai la tua vita è completamente diversa da quando eri cieco e pongono la domanda. Dici che cosa ti è successo? E lui inizia il suo racconto del cammino che ha fatto dalla tenebra alla luce. Ho incontrato quell'uomo che si chiama Gesù. Mi ha messo il suo fango davanti agli occhi. Ho visto l'uomo riuscito, l'uomo vero. Sono andato a lavarmi nell'acqua dell'inviato. L'acqua dell'inviato è lo spirito nel quale viene immerso chi cambia vita, chi è battezzato. Dall'acqua del battesimo esce l'uomo nuovo. E quando sono uscito ho visto, ho aperto gli occhi sinotti. Il cieco non va a tampinare coloro che sono ancora ciechi, facendo prediche per convertirli. No, sono gli altri che di fronte a una vita completamente diversa si chiedono cosa ti è successo. Come mai tu vedi la vita, la morte, la malattia, la sessualità, le disavventure che possono capitare? Vedi la politica in un modo diverso dagli altri? Cosa ti è successo? Proviamo a chiederci, non ci hanno mai fatto questa domanda? Come mai tu non ragioni come gli altri? Perché sei così diverso? Perché vedi il mondo in un modo diverso? E lui racconta tutta la sua storia e adesso entrano in scena coloro che sono preoccupati che lui adesso ci veda, che non sia più quello di prima. Sentiamo che cosa fanno queste persone. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era di senso fra loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose, è un profeta. A questo punto noi continuiamo a leggere il racconto non più dal punto di vista di una guarigione, di una cecità materiale operata da Gesù. Leggiamo il racconto come una parabola del passaggio dalla tenebra alla luce da parte di coloro che si sono lasciati aprire gli occhi dal Vangelo. Per esempio, noi fino a non tantissimi anni fa abbiamo sentito parlare di guerra giusta. Qualcuno si è lasciato aprire gli occhi dal Vangelo e si è lasciato interrogare, ma davvero è compatibile con il messaggio di Cristo? Oppure la giustizia di questo mondo? Cioè tu puoi comprare, vendere, accumulare anche, basta che osservi le leggi dello Stato, fai un po' di elemosina. Qualcuno si è lasciato aprire gli occhi dalla parola di Dio, dal Vangelo e dice no a questo perché i beni sono tutti di Dio, noi non siamo padroni, noi dobbiamo gestire beni non nostri consegnandoli a chi è nel bisogno. Qualcuno si è lasciato aprire gli occhi dal Vangelo, qualche altro no, l'obiezione di coscienza per esempio, oppure il volto di Dio che è stato immaginato fino a non tanti anni fa e qualcuno lo predica ancora come il giustiziere, come colui che ha dato le norme da osservare e si adonta se qualcuno sfida la sua autorità. Oggi qualcuno si è lasciato aprire gli occhi dal Vangelo, da Cristo e ha visto, gli altri non hanno ancora visto, ma ha visto un volto di Dio completamente diverso, volto di Dio che è amore e solo amore, che odia il male ma ama perdutamente il peccatore. Che cosa accade adesso? a coloro che non hanno ancora aperto gli occhi. Fanno una cosa che accade ancora anche oggi. Sono andati dai farisei a denunciare quest'uomo è diverso dagli altri e per giunta è uno che segue colui che non fa con la tradizione perché non osserva il sabato. E allora non può essere un uomo di Dio, colui che si distacca da ciò che si è sempre fatto, dalla tradizione che lui ha violato. E stiamo attenti, i farisei, adesso quali di quel tempo sono morti, rappresentano tutti coloro che sono prigionieri dei pregiudizi, dalle proprie convinzioni e non vogliono lasciarsi aprire gli occhi dal Vangelo. Non che si possono seguire tutte le idee più balorde che circolano, no, ma quando hai il Vangelo che ti vuole aprire gli occhi lasciateli aprire e qui ci sono i custodi di ciò che si è sempre fatto. Si è sempre fatto così, le norme sono queste, si è sempre predicato così. Ma se il Vangelo ti dice qualcosa di diverso lasciati aprire gli occhi. E i farisei allora cominciano a interrogare il cieco e gli dicono ma cosa ti è capitato? Lui lo racconta e alla fine gli chiedono ma tu cosa pensi di questo tale? Non lo citano per nome, mai citeranno Gesù loro quel tale. Lui risponde è un profeta. Prima aveva detto chi è costruito, non lo so, quell'uomo era un uomo. Adesso ha fatto un passo in più nella scoperta dell'identità di Gesù di Nazareth. È un profeta, è un passo avanti che lui fa. Ma le autorità che vogliono proteggere ciò che si è sempre fatto convocano adesso i genitori di colui che era cieco. Ascoltiamo l'interrogatorio che loro fanno. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero. Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda non lo sappiamo e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età. Parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età chiedetelo a lui. L'interrogatorio questa volta è fatto dai giudei al cieco. Chi sono questi giudei? Nel Vangelo secondo Giovanni, non sono il popolo di Israele, rappresentano gli oppositori a Cristo e al Vangelo. Sono i capi religiosi. I genitori a loro volta rappresentano coloro che hanno inculcato nel figlio i valori tradizionali. Ed era compito dei genitori, lo sappiamo, educare i figli secondo la tradizione del popolo di Israele. Se il figlio ha incontrato realmente Cristo, ha scoperto valori nuovi e ha rigettato quelli che erano inculcati dai pensieri, dai criteri di questo mondo. Ripeto, stiamo leggendo questo racconto come parabola del passaggio dalla tenebra alla luce operato dal Vangelo. interrogano i genitori. È questo il vostro figlio che voi dite che è nato cieco? Ecco, loro chiedono ai genitori, siete stati voi per caso a metterlo al mondo che ci vedeva? E loro dicono subito, noi non centriamo con questa luce nuova, noi l'abbiamo messo al mondo cieco, è un altro che gli ha dato la luce. loro non centrano con la nuova realtà. Chi ha dato questa luce è Cristo che gli ha aperto gli occhi. E ciò che Gesù ha detto a Nicodemo, ciò che nasce dalla carne è carne. Ciò che nasce dallo spirito è spirito. La parte biologica dell'uomo viene da questo mondo, ma l'uomo è caratterizzato dal dono che Dio gli ha fatto della nuova vita. I genitori sono cresciuti sentendosi responsabili della cecità del figlio. È un po' quella catechesi che è stata fatta anche nel passato, che parlava di peccato originale. Gesù non vuole sentire parlare di peccato. È la condizione nella quale noi nasciamo. nasciamo cecchi. È questo che produce la realtà di questo mondo. Adesso c'è una nuova luce e questa non viene dal mondo, viene dall'alto. Come mai adesso lui ci veda? Noi non lo sappiamo. Non viene da noi questa luce che il figlio ha. Hanno paura della guarigione, della nuova visione della vita. Questa li spaventa un po' perché li costringerebbe a cambiare prospettive, cioè ciò che loro hanno inculcato adesso è lasciato perché c'è una scoperta nuova. In fondo cerchiamo di essere concreti. Se si prende coscienza che i figli aprono gli occhi o si lasciano aprire gli occhi dal Vangelo, significa trovarsi di fronte a dei figli che nella vita saranno dei perdenti, non degli incapaci, delle persone che non sanno far fruttare tutte le loro capacità. Il contrario, solo che non impiegheranno i doni ricevuti da Dio per arricchire, per dominare, per apparire, ma per inchinarsi a servire gli altri. Questo non viene dalla carne, questo viene dall'apertura degli occhi che è data dal Vangelo. E i genitori hanno paura perché i capi religiosi li minacciano di cacciarli dalla sinagoga e cioè di escluderli da quella che è sempre stata la comunità tradizionale. E l'espulsione dalla sinagoga comportava parecchi rischi, era l'isolamento sociale, l'insicurezza più completa, perdevano addirittura il diritto all'eredità. E ciò che Gesù dice ai suoi discepoli, mettete in conto tutti i rischi che voi correte se vi lasciate aprire gli occhi dal mio Vangelo, vedrete la vita e il mondo in un modo completamente diverso. E adesso l'ultimo tentativo delle autorità religiose di far tornare quest'uomo che era stato cieco, farlo tornare a ragionare secondo i criteri della tradizione. E nelle sue risposte noi coglieremo tutte le caratteristiche della persona illuminata. Ascoltiamo. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose, se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero, che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete diventare forse anche voi i suoi discepoli? Lo insultarono e dissero, suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo. Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia. Eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, tu non sei che peccato dal giorno della tua nascita. Proprio tu vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. In questo interrogatorio che viene fatto al cieco noi troviamo di nuovo i farisei. Li abbiamo già trovati nell'interrogatorio precedente che alla fine erano divisi tra di loro. Adesso li troviamo di nuovo ricompattati. Quando si tratta di proteggere i propri interessi, le proprie convinzioni, i propri privilegi, coloro che detengono il potere si ricompattano sempre. E in questo gruppo hanno chiaramente prevalso i più fanatici, i difensori delle tradizioni teologiche più retrive, sono coloro che sono più infastiditi della luce del Vangelo. E iniziano l'interrogatorio presentandosi come coloro che sanno. Noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. Tu ti devi fidare, non devi pensare. Devi allinearti con quello che insegniamo noi. E adesso devi dare gloria a Dio. Dare gloria a Dio vuol dire allinearti sulle nostre posizioni. Invece dare gloria a Dio vuol dire allinearsi sulle posizioni della luce nuova che tu hai ricevuto. La risposta di quest'uomo che adesso noi troveremo è sempre più libero perché adesso ci vede. Dice se sei un peccatore io non lo so. Quello che so è che io adesso ci vedo e sono felice di vederci. Allora cercano di incastrarli in qualche modo e gli dicono che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi, per quale ragione vogliono fargli raccontare di nuovo la storia, perché vogliono arrivare al punto che Gesù ha violato il sabato e quindi è un peccatore, ti devi staccare da lui. E a questo punto colui che era cieco è davvero un uomo pienamente libero, al punto che si mette a fare dell'ironia molto ridicolosa, rischiosa, perché quelli tra poco lo minacciano e poi con la violenza lo caceranno fuori. Lui cosa risponde? Ve l'ho già detto, come mai insistete a chiedermelo? Non ve lo racconto di nuovo perché so dove voi volete arrivare. E allora fa dell'ironia. Non è che per caso volete diventare i suoi discepoli. A questo punto è chiaro che si arrabbiano e lo insultano. Tu sei discepolo di quello, non dicono di Gesù, di quello, quel tale. Noi sappiamo, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, a costui non sappiamo invece nemmeno di dove. Bene, qui è la paura che hanno queste persone che detengono l'autorità di rimettere in causa le loro convinzioni di fronte a una luce nuova che è quella di Cristo e del Vangelo. Stiamo attenti perché i farisei sono già morti, ma i farisei sono una setta che si perpetua nel mondo e Gesù era molto preoccupato che si perpetuasse nella sua comunità. La paura che il Vangelo rimetta in causa ciò che abbiamo sempre fatto, ciò che abbiamo sempre pensato. Lasciamo rimettere in causa tutto ciò che noi abbiamo ritenuto indiscutibile perché? Perché se il fondamento di queste convinzioni e di queste scelte è solido guadagnerà credibilità. Se invece non è solido verrà smascherato come una menzogna dalla luce del Vangelo. Ecco, i fatti vanno presi per quello che sono, non adattare il fatto alle proprie convinzioni. La risposta adesso di colui che era cieco, questo è che è strano, continua a fare l'ironia, che voi non sappiate di dov'è costui. Ma intanto lui mi ha aperto gli occhi e continua impiegando i loro stessi argomenti religiosi. Se costui non fosse un uomo in sintonia con Dio, Dio non l'ascolterebbe. Da che mondo è mondo non si è mai sentito che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Gli replicarono, adesso arrivano all'insulto. Tu non sai che peccato dal giorno della tua nascita e vuoi insegnare a noi che sappiamo. Se sei cieco è perché sei un peccatore, noi invece ci vediamo. No, credono di vederci, ma in realtà non ci vedono. Sentiremo tra poco il giudizio che pronuncia Gesù, il giudizio che conta. E a questo punto lo cacciano fuori, fuori dall'istituzione. E possiamo adesso vedere quali sono le caratteristiche che ha l'uomo illuminato da Cristo. Colui che è passato dalla tenebra, dal pensiero comune, da ciò che tutti pensano, dicono e fanno, a colui che segue la luce del Vangelo. La prima caratteristica. È uno che è partito dal non so. Continua a ripetere questo uomo. Io non lo so. Gli chiedono dov'è costui, coloro i vicini di casa che non lo riconoscevano più. Dice, non lo so. Poi quando le autorità religiose, noi sappiamo che è un peccatore. Io non lo so, non lo so. E tra poco quando Gesù lo incontrerà, andrà a cercarlo e lo troverà, gli chiederà se lui crede nel figlio dell'uomo. Dice, io non lo so chi è. Chi è, Signore? Ecco, è uno che si lascia mettere in causa. Non ha nulla, non ha delle convinzioni da difendere. No, la verità va sempre accettata. Non aver mai paura della verità, perché la verità viene da Dio. Questa è la prima caratteristica. Quindi un cammino che parte da riconoscere che io non so e sono aperto a ricevere la luce. Seconda caratteristica. È cosciente della sua nuova identità. Sono io. Quando gli chiedono, ma sei tu? No, sono io. Sono un uomo nuovo e sono felice di essere un uomo nuovo. La terza caratteristica è una persona libera nel presentare la propria convinzione. Non vende la propria testa a nessuno. Non perché uno ha autorità prestigio. No, prima viene la verità e quindi è libero quando ha ricevuto una nuova luce. La quarta caratteristica è proprio il rapporto con l'autorità. È una persona che rispetta l'autorità, non la offende, ma non la divinizza. Prima viene il Vangelo, prima viene Cristo e bisogna fare molta attenzione a non idolatrare nessuna autorità, né politica né religiosa. Quinta caratteristica. È una persona coraggiosa, al punto di fare dell'ironia. Ci vede bene, quindi non ha paura di un confronto e, se viene provocato, mostra tutta la sua libertà. Non ha nulla da difendere, non ha delle posizioni di prestigio o dei vantaggi, dei privilegi. No, è una persona libera. E poi non si lascia intimidire. Da coloro che abusando del potere insultano, minacciano e alla fine ricorrono alla violenza. Non rinuncia alla verità anche quando questa è scomoda ed è sgradita a chi sta in alto, a chi è abituato a ricevere sempre approvazioni, applausi, adulatori, inchini, baciamani. No, è colui che ha aperto gli occhi, che si è lasciato aprire gli occhi dal Vangelo. Ha tutta questa libertà. infine è uno che resiste alle pressioni e che non ha paura, accetta anche di subire la violenza piuttosto che rinunciare alla luce che oramai lo rende felice perché sente di essere veramente e pienamente uomo. E adesso ricompare in scena Gesù che dopo aver inviato questo cieco alla piscina di Siloe è scomparso. Ha accompagnato tutto il cammino verso la luce di quest'uomo ma lui non era presente. Ha lasciato che si confrontasse con tutti gli interrogativi, con tutte le difficoltà e adesso Gesù lo va a cercare e lo trova. Ascoltiamo. Gesù venne a sapere che l'avevano cacciato fuori, andò a cercarlo e trovatolo. Gli disse «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù «Tu lo vedi, è colui che parla con te». Ed egli rispose «Credo, Signore» e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro «Se foste ciechi, non avrete alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Abbiamo accompagnato il cammino spirituale di quest'uomo che si è lasciato aprire gli occhi dall'inviato, Gesù, l'inviato del Padre del Cielo. E ci saremmo forse chiesti per quale motivo? Quest'uomo che adesso ha scoperto la luce, è libero, è felice, invece di incontrare persone che si complimentano con lui, gli si oppongono. La risposta viene presentata dall'Evangelista Giovanni fin dall'inizio del suo Vangelo, quando ci riferisce le parole di Gesù a Nicodemo. Gesù dice «La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie». È strano, ma è ciò che accade. L'uomo nuovo, l'uomo vero, infastidisce, non è accettato da coloro che vogliono perpetuare il regno dell'uomo vecchio, quello guidato dalle passioni, dal proprio interesse, dalla logica del proprio tornaconto, di ciò che piace. Dà fastidio l'uomo nuovo. Ricordiamo quando Pilato, in pieno giorno, a mezzogiorno, presenta Gesù al popolo e dice «Ecco l'uomo, non lo sopportano, gli dicono via via, toglilo di mezzo, non vogliono vedere l'uomo, perché l'uomo nuovo mette in crisi coloro che vogliono perpetuare l'uomo vecchio». Bene, che cosa accade adesso? È stato scacciato dall'istituzione, lo cacciano fuori. Il Vangelo continua dicendo «Gesù venne a sapere che l'avevano cacciato fuori e andò a cercarlo». Gesù era comparso all'inizio del racconto, poi non è più presente e compare adesso. Alla fine non è intervenuto prima, ha lasciato che il cieco si destreggiasse da solo in mezzo alle difficoltà e ai conflitti. La persona è illuminata, non ha bisogno della presenza fisica del maestro. La forza per continuare a vivere da uomo nuovo gli viene dalla luce che ha ricevuto. Gesù lo incontra, riesce a trovarlo e gli dice «Tu credi nel figlio dell'uomo». Figlio dell'uomo è un'espressione ebraica che significa semplicemente l'uomo, credi tu nell'uomo che ti ho fatto vedere e quando ti ho messo il mio fango davanti agli occhi. E lui risponde «E chi è?». Gesù dice «Tu lo stai vedendo, è colui che parla con te». Questo è l'uomo riuscito, tu ci credi. Credere vuol dire «Lo accetto nella mia vita». Credere è una scelta d'amore, unisco la mia vita alla proposta che tu mi fai. Ecco, la professione di fede di quest'uomo nella parola che sta vedendo, la rivelazione del figlio di Dio che adesso è invitato ad accogliere nella propria vita. Tenendo conto quello che dice Gesù, l'uomo quando si presenta di fronte all'uomo vecchio avrà lo stesso destino che è toccato al figlio dell'uomo riuscito che è Gesù di Nazareth. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quando riprodurrete questo uomo riuscito, anche voi sarete perseguitati. La risposta di colui che era cieco è «Io credo, Signore». E adesso c'è il giudizio che pronuncia Gesù, un giudizio che non è di condanna, ma un giudizio di salvezza, cioè ti fa capire, stai attento alle scelte che fai. Alcuni dei farisei gli dicono «Ma siamo forse ciechi anche noi?». È molto inverosimile che compaiano di nuovo i farisei mentre Gesù sta parlando con quest'uomo guarito, illuminato. I farisei ai quali Gesù si sta rivolgendo siamo noi ed è a noi che dà la risposta. Dobbiamo chiedergli «Siamo forse ciechi anche noi?». Poniamoci questo interrogativo perché i farisei di quel tempo erano convinti di vederci, in realtà erano ciechi. E essere ciechi, ha detto Gesù, non è una colpa, ma dire che noi ci vediamo allora questo diventa il peccato. Nascere ciechi non è colpa affatto, non è un peccato, ma quando arriva la luce, rifiutare la luce, questo è il peccato. E peccato significa rinunciare a incarnare in noi l'uomo vero, essere uomini autentici, essere dei figli di Dio. Augura a tutti una buona domenica e una buona settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.